Architetto Mirella Loic, buongiorno, siamo a Lisbona, la Eusebio Cup, nel ricordo del grande Torino. Volevo chiedere a lei, figlia del grandissimo Ezio, un'emozione. Guardi, l'emozione c'è sempre stata in conseguenza di questo ricordo. Quest'anno però secondo me è un ricordo diverso. È un ricordo legato innanzitutto anche proprio a una grande riconoscenza di questo ricordo, di questa squadra. Per cui vorrei parlare al plurale, non solo riferendomi alla figura di mio padre. Soprattutto ritengo che questa iniziativa è stata molto importante perché ha segnato un po' una, se volrei dire, una svolta di quello che è stato sempre il ricordo costante che veniva fatto solo sul territorio, solo anche dal punto di vista non solo sportivo ma anche religioso. Qui si tratta veramente di una, oggi di un incontro quasi internazionale al ricordo. Secondo me, in questo momento potrei dire che il mio ricordo è presente anche per il dottor Cairo. Il dottor Cairo che ha avuto una grande sensibilità a organizzare questa cosa. e da parte mia è stata anche una, come potrei dire, aver accettato, è stato anche un riconoscimento verso il presidente del Torino attuale che ha avuto, ripeto, molta sensibilità nel organizzare questa manifestazione. Dopo tanti anni, ma che lascia sempre sicuramente un po' di malinconia, ma di fronte anche ai cambiamenti oggi dello sport forse fa anche riflettere e dare anche quasi quel senso di piacere nel ricordare uno sport diverso, soprattutto molto più educato. Architetto Loic, qui a Lisbona, il suo papà giocò la sua ultima partita nella vita terrena. Volevo chiederle un suo ricordo personale di suo papà. Guardi, di ricordi del papà, devo essere sincera, ne ho parecchi. Anche se quando è mancato non avevo ancora compiuto i quattro anni. Forse ne ho anche tanti perché, nati nell'immediato dopoguerra, i bambini da allora non avevano molti giochi e molte attività su cui spaziare con la propria fantasia. Per cui il mio ricordo, se dovessi dire, è legato al suo ritorno dall'allenamento. Io abitavo in una casa di famiglia con giardino, dall'ingresso Carraio, dove mio padre arrivava allora con l'attopolino. Era già un pregio dei giocatori dell'epoca. Lo riconosco e la mia famiglia mi sistemava proprio sul cancello aperto, in attesa dell'arrivo di mio padre. Pericoli allora non ce n'erano e quindi io potevo stare piccola bambina in attesa. A parte che poi c'erano molti bambini che sapevano l'orario di rientro, per cui si sistemavano sul marciapiede di fronte. E' quasi impauriti, devo essere sincerato, in stanza di tempo psicologicamente, quasi impauriti più della mia presenza che non di quella di mio padre. Che però quando arrivava si dedicava immediatamente, parcheggiata l'auto o la vespa da allora, si dedicava immediatamente al gioco con questi bambini. E ricordo questo preferire, questa generosità nel preferire prima questi bambini. E le dirò anche bambini abbastanza poveri del dopoguerra, che aspettavano questo momento proprio come un momento di festa e giocavano nella strada. Dopodiché toccava a me. Allora io, diciamo, ero più privilegiata, non giocavo a pallone, ma mio padre mi metteva sulla vespa o sulla topolino. Io amavo stare in piedi e far decapotare questo piccolo, devo dire, gioiello della carrozzeria dell'epoca. E allora facevo il mio giretto. Secondo me è stato un ricordo bellissimo. E io ho sempre avuto una certa passione per la velocità. Anche se poi nel tempo, devo dire, soprattutto la velocità di tutto quello che si alza dal terreno. E questo nel tempo forse mi ha fatto anche riconoscere questo ricordo, ma legato anche a una sensazione non più di paura. Questo è il mio ricordo fondamentale.